Travatori corretti! Travatori corretti! Secondo giorno di mobilitazione davanti al provveditorato agli studi di Verona per i docenti precari che chiedono risposte circa ai molteplici errori nel calcolo del punteggio delle graduatorie provinciali per le supplenze che stanno paralizzando le assegnazioni e la stipula dei contratti. Gli errori di valutazione del punteggio comportano anche il rischio di non riuscire a lavorare, di non riuscire a prendere la supplenza quest'anno. Ci siamo preparati con i banchi, con le rotelle, con i distanziamenti, con le mascherine ma non abbiamo pensato che in aula ci devono essere anche i docenti. Si chiede in primo luogo una rettifica delle graduatorie e la possibilità di avere convocazioni in presenza per evitare nuovi errori. Noi siamo qui disponibili per essere assunti su contratti annuali anche se avremo l'occasione e i nostri studenti, nuovi o vecchi che siano, stanno aspettando di essere coperti nelle ore di disciplina e quindi noi stiamo chiedendo proprio a gran voce amministrazione trasparente e correttezza nelle assegnazioni. A sostegno dei docenti presenti, anche i sindacati, Anief ha fatto il punto ai nostri microfoni dopo un incontro con il dirigente dell'ufficio scolastico Barresi. Comunque il dirigente dell'ufficio scolastico ha dichiarato di rettificare tutte le posizioni, quindi hanno sistemato la scuola dell'infanzia, le posizioni effettivamente erano sbagliate. Entro domani sistemeranno la primaria, successivamente metteranno mano ai docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado e poi ci saranno le nomine per i tempi determinati sul posto comune. Sono aumentati gli alunni che necessitano di sostegno, quindi ci sono ulteriormente 200 cattedre presenti Grazie a tutti.